Ieri è prematuramente scomparso Leonardo Mogheri, aveva soltanto 54 anni e era considerato il guru dell'energia in Italia e non solo. Leonardo Mogheri, soprattutto negli anni dal 2001 al 2005, prima dell'avvento di Scaroni, è stato uno dei più importanti dirigenti dell'Eni. Sotto la sua guida, l'internazionale di idrocarburi aveva raggiunto il record di 1.700.000 barili di greggio prodotti giornalmente, un record che è stato superato solo recentemente. Nel 2010 poi ha abbandonato l'azienda, ma già nel 2007 è stato l'unico ad aver previsto il crollo del prezzo del petrolio. Nel 2011, una volta uscito dall'Eni, era ritornato a fare economista, insegnava in un'università americana e ha scritto un libro che si intitola Con tutta l'energia possibile, nel quale comparava le varie fonti di produzione di energia, da quelle fossili sporche come carbone e petrolio, a quelle fossili un po' più pulite come il gas, con il nucleare e eolico, fotovoltaico, idroelettrico, eccetera. In questo libro non ci sono tesi precostituite e Leonardo Mogeri era convinto che la transizione energetica in atto alla fine sarà vinta dal fotovoltaico. Io l'ho seguito in un interessantissimo intervento al Festival dell'Energia nel maggio del 2016 a Milano e in quell'occasione Mogeri ipotizzava come punto di svolta la mobilità, la mobilità elettrica, quando secondo lui tra il 2020 e il 2025 arriveranno sul mercato mondiale le utilitarie completamente elettriche prodotte dalla Cina e dall'India. Ecco, la cosa che mi ha colpito è che la notizia, che non è stata neanche riportata da tutti i principali quotidiani, è stata trattata mettendo in evidenza quasi da tutti, da Corriere alla Repubblica al Foglio, i grandi risultati che lui aveva raggiunto come dirigente del Lenin. Pochi, solo 24 ore, devo dire la verità, si sono ricordati di porre l'accento invece sugli scenari che Maugeri vedeva per il futuro.